Apritevi alle nuove forme di comunicazione. L'Associazione Culturale Salenzia presenta Salenzia in Rock. Teatro, musica, cinema e fotografia. Martedì 29 marzo, ore 21, presso la Sala Polivalente di Castri di Lecce, in via Dante Alighieri. Martedì 30 marzo, sempre ore 21, presso il Centro Polifunzionale di Trepuzzi, in via Survo. Special Guest, Ruvida, The VWS, Jumping Jolly Rogers and The Tracers. Direzione Artistica di Giulio Neglia. Patrocinio della Provincia di Lecce e dei Comuni di Lizzanello, Castri di Lecce e Trepuzzi. Martedì 29 marzo, alla Sala Polivalente di Castri di Lecce. Mercoledì 30 marzo, al Centro Polifunzionale di Trepuzzi. Salenzia in Rock. La cultura a 360 gradi. Free Entry. Media Partner Radio Popolare Salento. Grazie.